Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con La Politica nella nostra trasmissione Il Fatto. Torniamo ad occuparci dell'esito delle elezioni regionali quando siamo ormai vicini anche all'insediamento del nuovo Consiglio dopo la convalida degli eletti. La prossima settimana quasi certamente ci sarà la presentazione intanto della Giunta e poi la prima seduta dell'Assemblea Legislativa abruzzese nella sua dodicesima legislatura. Ospite nei nostri studi il candidato più votato per Forza Italia nella circoscrizione di Chieti Daniele Damario. Buonasera. Buonasera a voi. Più votato in una lista addetta di tutti anche degli avversari molto forte, molto rappresentativa che ha ottenuto uno straordinario risultato. Forza Italia è stata la sorpresa in positivo nell'ambito di una vittoria della coalizione di centrodestra, un dato quello abruzzese che fa il pari con quello ottenuto già alle elezioni politiche che dà l'idea da Mario di uno stato di salute del partito e anche insomma di candidature che sono ritenute favorevolmente, con giudizi favorevoli dal elettorato. Nel suo caso anche rispetto a un lavoro fatto da assessore regionale per gran parte della scorsa legislatura. Quindi ne chiedo subito se si aspettava un risultato così rilevante, insomma anche nell'ambito di una lista così forte e anche competitiva al suo interno. Beh, diciamo che lei ha definito il risultato di Forza Italia una sorpresa, per noi non lo è stato affatto. Insomma noi venivamo già da un ottimo risultato, insomma il secondo d'Italia le politiche, ci aspettavamo un risultato così importante in regione Abruzzo perché abbiamo allestito delle liste sicuramente competitive di persone radicate sul territorio, di persone che anche nella scorsa legislatura regionale avevano detto la loro, insomma si erano distinte, contraddistinte sia in consiglio, ritengo anche in giunta, per una serie di atti fatti che comunque ci hanno dato ragione. Forza Italia è un partito che ha una dirigenza importante, perché è fatta di persone che hanno fatto i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali, hanno fatto i consiglieri regionali, gli assessori regionali, quindi insomma una forza che ci è stata sempre riconosciuta in consiglio regionale anche quando all'inizio numericamente non eravamo così importanti come abbiamo finito. Vorrei ricordare che Forza Italia ha iniziato il suo percorso in regione con tre consiglieri regionali e ha concluso la legislatura con ben otto consiglieri regionali, questo non è un caso, è la logica conseguenza di un partito sicuramente inclusivo, un partito moderato, atlantista, europeista, che ripeto oggi ha una classe dirigente in Abruzzo sicuramente all'altezza della situazione. Ecco, nel valutare anche il suo risultato personale, anche alla luce della sua esperienza e del fatto che in Abruzzo un elettore su due non è andato a votare, perché si riesce ad essere incisivi nel confronto con i cittadini? Quali sono i segreti vincenti di una buona campagna elettorale? Quella fatta l'ultimo mese o quella fatta durante tutto un periodo in cui nel suo caso si è amministrato e comunque si è avuto un rapporto quotidiano con l'elettorato di riferimento? Ma sicuramente l'ultimo mese di campagna elettorale è semplicemente la fine di un percorso che uno fa durante tutto il periodo del quinquennio. È evidente che ritengo che sia il risultato di un lavoro fatto sul territorio, di essere stato a contatto con le amministrazioni, con la gente, di essere disponibile. Io ritengo che la gente non è che si fa infatuare dall'ultimo mese di campagna elettorale, per l'amore di Dio poi ognuno faccia la prima parte, ma è evidente che l'ultimo mese è il risultato di un lavoro fatto durante tutto l'anno. È evidente che se non rispondi al telefono o non richiami durante il periodo amministrativo, se non sei disponibile, se non ti rendi disponibile ad ascoltare le problematiche del territorio, poi le cose si possono risolvere, non sempre si possono risolvere, ma sicuramente essere presenti, essere radicati sul territorio, avere il telefono sempre acceso per i sindaci, gli amministratori, ma anche i normali cittadini che ti incontrano per strada, sicuramente aiuta poi ad ottenere un risultato elettorale che oggi, ripeto, sia a me personalmente che a Forza Italia, gratifica, significa che si è lavorato nel quinquennio precedente con intensità e portando a casa anche qualche risultato sicuramente. Il telefono acceso le ricordava che nella sua esperienza di assessore, in particolare alle attività produttive, lo è dovuto essere per tante crisi industriali che ha seguito, per i temi riguardanti la vita delle piccole e medie imprese, ma anche delle grandi imprese. Su questo le volevo chiedere un parere, visto che domani è il giorno in cui ci sarà un incontro al Ministero sul futuro di Stellantis, un parere sullo stato di salute, in particolare del polo automotive in una fase in cui si comincia ad avere qualche preoccupazione anche sul futuro occupazionale. A suo avviso, dagli elementi che lei ha, ovviamente non è più assessore in carica, ma conosce benissimo il dossier, l'Abruzzo deve temere qualcosa? Ma guardi, io ritengo che l'Abruzzo oggi in questo momento non abbia grosse paure d'avere. domani ci sarà un incontro al Ministero, che è l'ennesimo incontro, non è un incontro, ce ne sono stati diversi, a cui ho partecipato io insieme a Marsiglio, qualche volta ho partecipato da solo. Oggi l'Abruzzo, per quanto riguarda l'automotive, sicuramente è una delle realtà più importanti italiane, se non la più importante. Voglio ricordare che la metà degli autoveicoli che si producono in Italia, si producono in Abruzzo, soprattutto in Baldisango. Oggi devo dire che noi siamo stati anche un po' fortunati, perché tutta l'evoluzione che c'è stata rispetto al passaggio all'elettrico ci ha sfiorati, perché in Abruzzo non si producono motori, quindi non si producono le parti interessate alla transizione ecologica per quanto riguarda gli autoveicoli. siamo più dedicati all'assemblaggio, alla struttura dei furgoni, principalmente, esclusivamente dei furgoni e ad assemblare pezzi che vengono costruiti in altri posti. È evidente che il futuro dell'automotive, ma non solo dell'automotive, tutto il comparto abruzzese passa attraverso le competenze, l'aggiornamento delle competenze e questa è la sfida, è quello che oggi rende ancora a Val di Sangro, in particolare a quello che io chiamo ancora la Sevel, ma non si chiama più Sevel. Oggi le maestranze che operano in quell'azienda hanno un livello produttivo importante, non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi, per cui oggi ritengo che non ci sia grossi problemi, almeno per i prossimi anni, per quanto riguarda l'insediamento in Val di Sangro. È evidente che devo dire che anche il governo sta facendo la propria parte perché si danno miliardi di incentivi all'acquisto dei nuovi mezzi, però spesso questi mezzi non vengono costruiti in Italia, quindi la proposta che abbiamo lanciato noi, tra virgolette come Abruzzo, era anche quella di cominciare ad incentivare sempre più furgoni che sicuramente si costruiscono in Italia e poi trovare soluzioni che mi sembra si stiano trovando anche per la produzione di nuove macchine, soprattutto elettriche, in altre zone d'Italia. Il governo ritengo che su questa partita stia facendo la propria parte e ha messo a disposizione una serie di iniziative che ora starà a Stellantis, che purtroppo come sappiamo non è più Fiat, non ha più il cervello, non ha più quasi nulla in Italia purtroppo e quindi dobbiamo sapere che dobbiamo essere competitivi. Noi come Regione Abruzzo abbiamo anche messo una serie di incentivi, prima per le PMI ma da adesso chiunque sarà l'assessore oramai è un percorso già tracciato, anche incentivi importanti per progetti di ricerca per le grandi aziende, uscirà un bando da 80 milioni di Euro dedicato proprio ai grandi progetti di ricerca in cui possono essere coinvolte anche le grandi aziende in collaborazione con le PMI abruzzesi. Ritengo che siano iniziative sicuramente utili e importanti per un comparto così importante come quello dell'automotive, non vorrei dimenticare anche i grandi investimenti fatti grazie al PNRR in Val di Sangro, soprattutto sulla piattaforma Saletti, ma anche altre iniziative per l'ultimo miglio ferroviario sul porto di Ortona, nel porto di Vasto, che sicuramente rendono l'Abruzzo e questa parte d'Abruzzo, la provincia di Chieti, della Val di Sangro sicuramente competitiva rispetto ad altri siti italiani e stranieri. A prescindere, ha detto giustamente lei, a prescindere di chi sarà il nuovo assessore, probabilmente già per i giorni del Vinitaly sarà presente il nuovo assessore all'agricoltura, lei ha seguito il tema dell'industria agroalimentare di questa regione sul fronte delle attività produttive, si vive un periodo molto difficile e peraltro anche personalmente un produttore, quindi conosce bene le difficoltà del territorio, anche su scala territoriale in particolare della provincia di Chieti, qui probabilmente c'è qualche nube in più e forse la necessità di qualche intervento massiccio da Mario. Guardi, soprattutto il periodo di crisi e soprattutto per il comparto vitivinicolo che comunque rappresenta la fetta più importante dell'agroalimentare in Abruzzo, purtroppo l'anno scorso è stato un anno orribilissimo da un punto di vista della produzione con la peronospera che ha praticamente quasi azzerato le produzioni vitivicole abruzzese, noi come regione Abruzzo anche qui abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo messo circa 18 milioni di euro che era quello che potevamo in quel momento mettere sul piatto, bisogna ovviamente riniziare un percorso che oggi vede in difficoltà anche le grandi cooperative che caratterizzano per quanto riguarda il vino sicuramente il mondo produttivo abruzzese, è evidente che avere dei costi di gestione che sono sempre uguali, sia se tu raccolga 15 mila quintali di uva oppure se ne raccogli 300 mila è evidente che i costi di gestione sono costi che poi il mondo cooperativo dovrà necessariamente far ricadere sul mondo produttivo, sicuramente ci mette in difficoltà, speriamo che il prossimo anno sarà un anno da un punto di vista produttivo sicuramente migliore di quello di quest'anno, devo dire che però il mondo del comparto agricolo abruzzese tiene botta, l'unico problema che io ritengo che non sia un problema dovuto alla produzione è che un comparto che oggi sconta una crisi di ricambio generazionale importante, dovremo sicuramente aiutare, spingere molti giovani che oggi hanno qualche titubanza se rimanere nelle aziende dei propri genitori o scegliere altre strade, questo purtroppo è un problema che abbiamo avuto magari anni fa per anche un approccio culturale rispetto al rimanere o no nelle aziende dei propri genitori, questo è un problema importante, un altro problema sicuramente è quello della polverizzazione della proprietà, purtroppo ci sono tante microaziende che oggi fanno fatica ad andare avanti, però ritengo che su questa cosa si possa lavorare col prossimo PSR e rendere remunativo un mestiere che sicuramente è il più bello del mondo, il più antico del mondo, certo bisogna insistere ancora sulla promozione dei nostri prodotti, far sì come sta venendo negli ultimi anni che i nostri vini non diventano semplicemente vini da taglio da vendere per giustare i grandi vini del nord, ma abbiano le proprie etichette su questa cosa, tutte le aziende stanno lavorando, la percentuale di vino imbottigliato con etichette abruzzese è sempre maggiore anno dopo anno, bisogna insistere su questa strada, i risultati si avranno, certo nell'immediato ci sarà questo problema che vedremo più durante questo anno che nell'anno della produzione, però il governo dovrà fare anche la propria parte, ritengo che in questo momento le aziende agricole manne supportate e per quel che abbiamo potuto noi come Regione Abruzzo siamo stati presenti. È fortunato, un minuto e mezzo soltanto per rispondere alla domanda più cattiva, più politica che le sto per fare, che lei immagina rispetto al suo futuro negli assetti di governo della Regione Abruzzo, abbiamo visto che ieri c'è stata una prima riunione della coalizione cui Forza Italia ha un po' rilanciato rispetto a quella che è stata l'offerta da parte di Marsiglio, il quale però ha detto che dentro il fine settimana chiuderò la giunta, a suo avviso sarà così e in ogni caso Daniele Damario che tipo di disponibilità dà e quali sono le sue aspettative? Molti mi conoscono, sono un uomo di partito, sono il coordinatore provinciale di Forza Italia in provincia di Chieti, ritengo che il nostro coordinatore regionale Naziaro Pagano saprà far valere all'interno del tavolo il risultato che ha avuto Forza Italia, un risultato innegabile, insomma è l'unico partito che cresce, un partito che viaggia a doppia cifra a livello regionale e non avviene così in tutta Italia, soprattutto anche per il grande lavoro fatto sulla scorsa consigliatura, ripeto, noi abbiamo iniziato con tre consiglieri, abbiamo terminato la consigliatura con ben otto consiglieri e non per questo abbiamo chiesto di cambiare gli assetti di giunta in quel momento, ritengo che Forza Italia avrà quello che gli spetta, sicuramente abbiamo piena fiducia del coordinatore Naziaro Pagano che partecipa a questi tavoli, per quanto mi riguarda personalmente, io lo ripeto, sono un uomo di partito e sono abituato a stare nel posto che il partito mi indica, quindi quando mi ha detto di fare il consigliere ho fatto il consigliere capogruppo, poi il partito mi ha chiesto di fare l'assessore, ho fatto l'assessore, quindi qualsiasi sarà il ruolo che il partito intende assegnarmi lo accetterò con tranquillità. Va bene, grazie, bocca al lupo, Daniele Damario, ancora complimenti per il risultato elettorale e appuntamento alle prossime occasioni nelle quali probabilmente avrà un ruolo un po' più definito e quindi tornerà ad essere nostro ospite, in un caso o nell'altro, insomma, sicuramente sederò in consiglio comunale, in consiglio regionale, dico sempre comunale perché faccio un consigliere come una frangavilla che è il primo amore. Eh vabbè, sì, sì, potrebbe anche poi non sedere perché evidentemente ci sarà qualcuno che le farà da supplente. Vedremo, vedremo, vedremo. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera.